Buonasera, sono con il professore Antonio Sacca e facciamo una conversazione oggi parlando di una guerra imminente, una guerra che potrebbe scoppiare a breve e potrebbe rivolgere un pochino anche noi italiani, perché come vediamo sono quattro mesi e ancora continuano a sparare, continuano a esserci comunque focolai di guerra all'interno dell'Ucraina. Quello che ci raccontano molto spesso non ci dicono tutto quello che c'è, insomma quello che succede. Ecco io passo la parola a il professore Antonio Sacca che ci illustra come stanno le cose attualmente. Prego professore. Sì, io devo dire che sono preoccupatissimo, molto più del passato, perché le ultime dichiarazioni del premier inglese, del capo di Stati Maggiore dell'esercito inglese, della Finlandia, della Lituania e ovviamente dietro le spalle degli Stati Uniti, fanno pensare addirittura che insomma si farà la guerra. Perché Johnson lo dice esplicitamente, bisogna vincere Putin, bisogna vincere la Russia, ora vincere la Russia si può fare con la guerra, non questa guerra intendiamoci, la guerra mondiale. Perché non è che la Russia è disposta a perdere quelle che ha conquistato in Ucraina e avere una Ucraina nemica alle spalle. Questo è un sogno occidentale, questo è un'illusione, una visione proprio visionaria, devo dire, dell'Occidente, di avere una Ucraina antirussa praticamente all'interno della Russia. Questo non l'accetterebbe nessun paese al mondo, insomma queste sono pretese occidentali, ma questo è l'aspetto diremmo cronachistico della faccenda. L'aspetto storico, di un enorme rilievo, è che quasi tre quarti del mondo commerciano con la Russia e con la Cina. Questo è il grave delitto che gli Stati Uniti e l'Inghilterra ritengono che si sta compiendo, che loro non sono capaci di impedire al mondo di commerciare con la Russia e con la Cina. Quindi non essendo capaci di commerciare con la Russia e con la Cina si corrono alla guerra. Questo è il pericolo gravissimo che corriamo tutti, perché in effetti la realtà è banalissima e tragica, intendiamoci. Gli Stati Uniti e l'Inghilterra, cioè il grande capitalismo della grande finanza, dei grandi gruppi, delle multinazionali, eccetera, si trova in difficoltà rispetto alla concorrenza russa e cinese. L'ho scritto da tempo e lo ribadisco. Perché? Perché la Russia ha le materie prime e la Cina vende a basso costo. Questo resta non competitivo per l'Occidente. L'Occidente non ce la fa. Non ce la fa. Allora deve sbloccare la concorrenza russa e delle materie prime. Impedire alla Russia di commerciare. Ma di all'India di non commerciare che la Russia sia conveniente a farlo. Come si fa? Come si impedisce all'India? Che fai la guerra all'India? Fai la guerra alla Cina? Che commercia con la Russia? Questo si sono incastrati. Incastrati letteralmente. Perché vogliono qualcosa che nessuno, nessuno rispetterà. Perché siamo nel mondo della disubbidienza. Io sto facendo proprio in questo momento un articolo in cui dico è l'era della disubbidienza. Cioè gli Stati Uniti non sono più il padre il quale ordina a ogni parte del mondo quello che devono fare. No. Anche le nazioni minime, perfino, per carità è una bella nazione, l'Argentina si ribella al diktat americano. Quindi addirittura perfino l'America del Sud, il Centro America, l'America del Sud si sta ribellando. Quindi agli Stati Uniti non resta che la disgraziata Europa, dico disgraziata Europa perché chi ci rimetterà le ossa sarà l'Europa di tutta questa faccenda. L'Europa sarà terrificata da questa situazione. Pensa un po' che un grande speculatore, speculatore nel senso economico, uno che fa investimenti utilitaristici, Dalio, ha puntato sul crollo della Germania e della Francia. Pensate a che punto siamo arrivati. americano. Quindi se l'America scommette sulla rovina dell'Europa siamo perduti letteralmente. Qui non si tratta di essere fedele alle alleanze con gli Stati Uniti, si tratta di vedere di salvarci. Gli Stati Uniti si sono imbarcati in una strada sbagliata. Io capisco, totalmente capisco che non hanno altra strada. Però la strada è la guerra. Questa strada porta alla guerra. Se noi permettiamo alla Lituania di provocare la Russia, se noi permettiamo all'Inghilterra, allo stato maggiore inglese, di fare una dichiarazione in cui dice che addirittura gli inglesi sono già in guerra con la Russia, noi vogliamo la guerra. Allora vogliamo la guerra. Ce lo dicano e non facciano le loro separatie. Perché qui siamo veramente all'illusionismo provocatorio. Vogliono la guerra con la Russia? Non vogliono che la guerra si avvantaggia delle sue materie prime? Vogliono bloccare i commessi della Russia? Eh va bene, andremo alla guerra mondiale. E sarà quel che sarà. Vogliono impedire alla Cina di vendere le materie, le sue caratteristiche commerciali a basso costo? Eh va bene, la Cina reagerà. Pensano che se prendono tempo gli Stati Uniti sono in condizioni di debolezza? Perché questo poi è il punto della faccenda. Loro pensano, giustamente, per carità, nessuno ce l'ha con gli Stati Uniti. Sono grandi, purtroppo, ragionamenti storici. Una nazione che non ha materie che vende a basso costo, che non ha materie prime da vendere a basso costo, è perduta. Perché nel commercio mondiale, se c'è la globalizzazione, ci rimette. Gli Stati Uniti sono sconfitti dalla Russia e dalla Cina. In queste non ci sono discussioni. Hanno un ragionamento lucidissimo. Gli Stati Uniti sono mica. Sono persone che ragionano. È la grande potenza mondiale. Quindi valuta bene i passi che fa. Però non ci può trascinare nella guerra. Non ci può. Non ci può. Ci rovina. Perché poi la guerra rischia di essere una guerra europea. È vero che la Russia vante i suoi missili con 18 mila chilometri di distanza capace di colpire gli Stati Uniti. Ma i primi ad essere colpiti saremmo noi. Allora si dice, con le sanzioni e con la guerra la Russia crolla. Ma non è vero. Ma non è vero. Non è vero. Non sta collando per niente. Perché? Perché il mondo è grande. Il mondo è grande. L'Occidente crede che esista solo l'Occidente. E le decisioni che fa l'Occidente valgono per il mondo. Si sbaglia. Non è più così. Il Brasile fa i fatti suoi. Il Sud Africa fa i fatti suoi. L'India fa i fatti suoi. Se ne infischiano dagli Stati Uniti. I paesi musulmani fanno i fatti loro. Se ne infischiano dagli Stati costo del petrolio. Tra l'altro questa è una cosa molto problematica perché danneggerebbe anche gli Stati Uniti. Ma vedremo poi che succederà. Sono dettagli, diciamo, in questo grande... Allora, qual è l'altra alternativa? C'è un'alternativa? L'alternativa è convivere. Accettare che se la Russia commercia con la Cina nessuno gli dice niente. Se l'India commercia con la Russia nessuno gli dice niente. E' questo. Accettare che se la Germania commercia con la Russia nessuno gli dice niente. Dice ma sono nazioni autoritarie e totalitarie. Ma perché? Non abbiamo collaborato noi. Con chi abbiamo collaborato? La Cina. Chi l'ha inventata? Gli Stati Uniti con i capitali americani. Ed era totalitario. Addirittura l'ha inventata proprio perché è totalitaria. Quindi teneva a bada gli operai. Quindi di che stiamo parlando? Belgiardi totali. Ora hanno scoperto che è un paese totalitario perché sta vincendo i mercati mondiali. Ma quando dava le merci a basso costo e i capitalisti americani li avevano a basso costo e li vendevano ad alto costo, non erano totalitari? Sono veramente assurdità. Quando gli Stati Uniti ora ricorrono addirittura al totalitario Venezuela che sta facendo? Sta dicendo che il Venezuela è comunista? No, perché gli fa comodo che il petrolio venezuelano concorra con quello russo. Quindi sono assurdità insomma. Non c'entra nulla la difesa della libertà. Però devo dire che la situazione è di una drammaticità unica perché o si decide una guerra totale o gli Stati Uniti hanno la più grande sconfitta della storia. Perché se perdono l'Ucraina è un segnale per tutta l'umanità che gli Stati Uniti non sono affidabili, che fanno il passo più lungo della gamba. E questo sarebbe veramente micidiale. Nessuno vuole la rovina degli Stati Uniti. Nessuno vuole la sconfitta degli Stati Uniti. Ma non possono pretendere di controllare il mercato mondiale. Non è più possibile. Io dico questo. Sul piano del realismo. Ora abbandoniamo le ideologie. Si può avere un paese che dice, non so, all'Uruguay, a Sudafrica. Non commerciare con la Cina? No. Non ce la fa. Non ce la fa. In psicanalisi c'è una figura interessante dell'orda. L'orda dove c'è un capo, il capo dell'orda, che controlla i rapporti sessuali dei figli e impedisce ai figli di avere rapporti sessuali. Ma non ci riesce. se no l'orda finirebbe. Cioè, un uomo solo non basta a fare una progenie. I figli nascostamente fanno rapporti alle spalle del padre. Questo esiste anche nelle scimbie. Sono dei gruppi di scimbie dove c'è un capo che impedisce a tutti i membri di avere rapporti. Ma poi, se si vede nei documentari, i rapporti esistono nascostamente, perché non può controllare tutto. Ora, gli Stati Uniti pretendono di fare i capi dell'orda, ma i figli, facciamo finta che siamo figli, fornicano alle spalle degli Stati Uniti. La Germania fornicava, l'Italia fornicava, e la Francia pure in parte, ma soprattutto Germania e Italia con la Russia avevano rapporti magnifici. Gli Stati Uniti li hanno bloccati perché non vogliono che l'Europa avanzi e non vogliono che avanzi la Russia con rapporti con l'Europa. Questo ci rovinerà, danneggerà forse, forse la Russia che però ha trovato un mondo alternativo, mentre noi non l'abbiamo trovato, non l'abbiamo trovato perché l'Africa non è il mondo alternativo per l'Europa. Non è il mondo alternativo. L'Africa è in mano alla Russia e alla Cina e e poi tra l'altro ha forti tensioni interne. Quindi non è un mondo stabile che ci può dare garanzia. La Libia ci dà garanzia che c'è una guerra civile? Perché questi illusionismi? Perché fingere di credere che l'Africa è l'alternativa alla Russia? Non è così. Noi non abbiamo alternativa alla Russia. A parte il fatto che la Russia è Europa e civiltà europea. Se noi ci mettiamo con uno scontro intraeuropeo siamo perduti. Perduti. Se l'Europa occidentale si mette contro l'Europa russa, l'Europa diciamo asiatica, in parte asiatico, l'Europa è finita. Sia demograficamente, sia culturalmente. In Ucraina bruciano i libri, i dischi russi, ma siamo impazziti. Impazziti letteralmente. Noi dobbiamo ricostruire l'Europa. perché l'America non serve alla ricostruzione dell'Europa. Non ci può fornire le materie prime. Non ci può fornire un convergio vantaggioso. Ma a parte la parte diciamo economica, c'è la parte spirituale. Noi abbiamo rapporti spirituali con la Russia. Molti europei amano la Russia. La Russia è spiritualmente straordinaria, culturalmente straordinaria, artisticamente meravigliosa. Un europeo ama la Russia. Come si fa a credere questo cuneo tra l'Europa e Russia? È rovinoso, ci amputa. Io sono stato mille volte in Russia, 12-13 volte. L'amo moltissimo. incredibile. Insomma, la musica russa è fantastica. La letteratura russa è meravigliosa. Ma come le chiese russe sono incantevoli, le icone eccetera. Come si fa a rinunciare a tutto questo, a farci nemici della Russia? Ci vorrebbero statisti seri, seri, di grande livello culturale, non ragionieri della politica. Statisti culturali, culturali. Perché senza cultura siamo al nulla, al nulla, alla tecnologia pura. Gli Stati Uniti sono transgenici. Gli Stati Stati Uniti stanno alterando l'uomo. Gli Stati Uniti vogliono l'alimentazione artefatta. Vogliono la plurisessualità. Vogliono l'intervento genetico su tutto. Non è questo lo futuro dell'umanità. Il futuro dell'umanità deve restare umanistico. E questo la Russia è importantissima. Ecco, questo è quello che posso dire. Dico ogni giorno, faccio un articolo al giorno, passo quel che posso io e altri. Però non c'è questa valutazione che gli Stati Uniti non riusciranno mai a controllare il commercio mondiale. Bisogna dirglielo in faccia. Stati Uniti, avrai tutti le pretese che vuoi. Ma se pretendi di controllare quello che fa il Vietnam e quello che fa l'Argentina, se sbagli non ce la farai. E farai pozzi di guerra qua e là. E si sta vedendo. La Lituania ha fatto un gesto di guerra. Bloccare i treni con voi, addirittura, che vanno in Russia. Ma è pazzesco. È pazzesco, letteralmente. Mai visto. Le sanzioni alla Russia sono le peggiori sanzioni mai viste nella storia umana. Neppure i nazisti hanno fatto sanzioni del genere. E si vuole la pace? E si vuole costruire gli equilibri mondiali? No, si vuole la guerra. Ecco, la guerra è distruttiva e rovinosa per tutti. finiamo questa ipotesi della guerra e cerchiamo di avere un mondo pluralistico. Poi io dico questo. ci sono i pianeti, possiamo colonizzare Marte, possiamo colonizzare i deserti, possiamo colonizzare gli oceani. Perché non uniamo l'umanità in questi grandi scopi comuni? Pensare che se facciamo la fusione nucleare noi avremmo energia immensa per fare tutto. Perché scontrarci? Ecco, io direi che bisogna puntare sull'ampiamento della convivenza. C'è il famoso progetto di rendere Marte abitabile, terraforming. Pare che tra 10-15 anni Marte sarà abitabile, faranno un clima. Ecco, questo sarebbe un grande scopo. E metà dell'umanità se ne va là. E siamo tranquilli qui. Ecco, questo è il mio ufficio, Giovanni. Ecco, io penso che non andrò. Forse i miei nipoti, mio figlio, io non penso di andare. Sarà un po' difficile per me andare tu Marte. Tu che pensi? Tu ci vuoi andare? No, 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 è bellissimo, è bellissimo. Penso che ci andranno la civiltà del futuro sarà planetaria. Eh sì, cominceremo a rispanderci nell'universo. Lo sviluppo futuro sarà negli altri pianeti. Noi sfrutteremo le comete, faremo stazioni spaziali nel cielo. Guarda, non hai idea che cosa è possibile se si sviluppa l'aspetto planetario. E tra l'altro è bellissimo, sarebbe bellissimo. Tu pensi i paesaggi che vedremo, gli asti, le comete, le galassie. Il futuro sarà spaziale. Ecco, io ti saluto. Sette, allora io ti ringrazio di nuovo per questa conversazione, ti ringrazio ancora per la tua partecipazione e le recensioni al convegno di storia, mi ha fatto tanto piacere. E un piacere per queste cose così. E poi ci dobbiamo sentire per il convegno di storia, per fare l'intervento completo poi via Skype, va bene? Ok, ciao allora. Ciao Giovanni, a presto. Ciao Giovanni, a presto. Ciao Giovanni, a presto. Grazie a tutti.